Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo video sarà un video collaborazione con Ketty Centos e le altre ragazze. Come al solito, nell'info box vi lascerò il loro link. Spero che andate a guardare anche loro, perché mi sembra giusto, se è una collaborazione, andare a guardarle. Iniziamo subito. Il video di oggi sarà i 5 prodotti con il buco. Io vi dovrò fare vedere 5 prodotti che hanno toccato la cialda. Quindi iniziamo subito con questa piccola palette della Yesensis. Ma attenzione perché è tutta rotta e ho paura che mi cade tutto addosso. Allora, sono un trist di marroni e un bianco. Allora, il bianco è veramente tutto finito. Questa parte qua che sto toccando è tutta finita. C'è solo questo pezzetto. Nel marrone più chiaro, marrone sul dorato, manca appena appena... Cioè, non manca, si vede appena appena il fondo. E su questo marrone più scuro si vede già il fondo. Non so se l'ho riuscita a vedere. Sto girando col cellulare. Non so perché non mi funziona più la Nikon. Devo vedere se sono le batterie che si sono guastate. Non lo so. Non si vuole accendere. Quindi, boh... Scusate per la qualità video. Dicevo, questa palettina è super perché la uso veramente per tutto. Cioè, la uso, diciamo, quasi tutti i giorni. Secondo prodotto è un'altra palettina. Questa qui ci sono blu, no, azzurro, sì, blu, qui c'era un tipo rossiccio sul bordeaux, oro, un blu scuro con dei filamenti tipo azzurrini e chiaro, oro, oro più scuro e bronzo. Questi qua sono finiti, credo erano dei blush. Non mi ricordo perché è davvero vecchissima. Questa è della, aspettate perché non si legge, deluxe case. Credo, non lo so. Per quel poco che si riesce a leggere, vedete, è quasi bianco. Questa mi piace un casino perché ci sono questi blu che scrivono ma tantissimissimissimissimo ed è veramente favolosa. Terzo prodotto, un ombretto in cialda. Questo se lo apro, combino un macello, un macello. Già mi stanno cadendo tutti i pallini fucsia, quindi ho già sporcato il tappetino del mouse. Questo è un fucsia, ok, ho buttato tutto a terra ed è una figata perché ne basta ma non poco di più, pochissimo. E non so se riuscite a vedere. Quarto prodotto, sono due però, cioè è un quarto prodotto. Allora, è una cipria della Top Lady numero 3 che ha toccato veramente il fondo perché è troppo buono. Si presenta così normale. Di sotto c'è uno specchietto e qui c'era il posto per una spugnetta che però si è consumata e l'ho buttata via. Questa cipria, siccome è un po' più scura di quella che uso io, la uso soprattutto in questa zona quando magari o metto troppo blush e tipo le guance alla Heidi. Con questo vado a scurire un po'. E l'altra è la cipria numero 30 della Catrice. Questa è ottima, da quando ho provato questa uso solo e soltanto Catrice. Non costa nemmeno tanto, tipo 2,95€, nemmeno 3€. Anche questa andata, toccato il fondo, è troppo buona, è delicata, delicata. Io odio quelle cipre che quando le metti proprio ti senti il peso addosso. Questa sembra che non è niente addosso, veramente. Fissa il fondotinta che è una meraviglia. Quindi, ultimo prodotto 5. è questa palette di colori, come vedete, per il viso. Questi io li uso quando magari viene Halloween, Carnivale. Così su di me faccio piccoli esperimenti. Come vedete, il rosso è andato. Il bianco ormai è diventato grigio. Non c'è più niente. Cioè, questo è perché è sporco, ma se vedete... È andato. Comunque, non li apro tutti perché... Guardate le mani. Ragazze, il video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Era brevissimo perché erano soltanto 5 prodotti da mostrarvi. Spero di averlo fatto giusto perché... Quando Chetty e abbiamo parlato, no? Mi ha spiegato più o meno come doveva essere. Spero che lei si è espressa bene. E io ho capito giusto. Perché può essere che io, come al mio solito, capisco sempre il contrario. Quindi, avrò fatto una figura di merda o no? Chi lo sa. Vi mando un grosso bacione. Al prossimo video. Ci sentiamo. Ciao ragazze.